Carissimi, all'inizio del nostro pellegrinaggio, richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato questo proposito. Il Santuario della Santissima Trinità, che desideriamo visitare, attesta la devozione del popolo di Dio e dei fedeli che vi accorrono da ogni parte per ritornare confermati nella vita cristiana, stimolati alle opere di carità. Ma anche ai fratelli e alle sorelle che incontreremo nel Santuario, dobbiamo portare in dono l'esempio della nostra fede, speranza e carità, perché tutti insieme, residenti, pellegrini, possiamo arricchirci della mutua edificazione. Chiediamo anche per questo nostro pellegrinaggio l'intercessione di Maria Santissima. Ave o Maria, piena di grazia, signore e con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega di noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti ama, e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero. assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio, guida i loro passi nella tua volontà, perché protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce della notte, possano giungere alla meta desiderata. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio, nostra salvezza, ci guidi nella prosperità e nella pace. Amen. Il Signore ci assista e ci accompagni nel cammino. Con l'aiuto del Signore, giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio, che iniziamo nel suo nome. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Allora, ecco, iniziamo il nostro pellegrinaggio. L'appuntamento è giù al fiume. Grazie. Allora, ecco, iniziamo il nostro pellegrinaggio. Allora, ecco, stiamo iniziando il nostro cammino con la preghiera. Lo abbiamo fatto in piazza. Adesso facciamo questo percorso insieme, fino all'inizio del sentiero, per pregare insieme, per mettere nelle mani della Santissima Trinità tutte le intenzioni che stanno nel nostro cuore. Per le nostre famiglie, per le persone che si sono raccomandate a noi, per tutte le persone che stanno in difficoltà. Oggi è domenica, è il giorno del Signore, ed è bello viverlo insieme come grande famiglia della Santissima Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ammi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso in mia aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Primo mistero glorioso, contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in terra. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno dienesca. Buongiorno. 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 Grazie. 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 Grazie.